Onorevole Larussa, Destra al Nuovo non è solo un gioco di parole, da Milano parte la proposta per una nuova destra? Sì, al Teatro Nuovo, Destra al Nuovo, Popoli e Sovranismo è la proposta che è già partita da Treio con Giorgia Meloni di un movimento sovranista e conservatore che dopo l'Europee sappia ridare slancio al centro-destra con un movimento alleato e alleabile con la Lega ma diverso e distinto naturalmente per ritornare a far vincere il popolo del centro-destra che aveva vinto le elezioni ma che la legge elettorale non ha consentito potesse governare. Quindi solo con la Lega, il vecchio centro-destra, con Forza Italia è impossibile? No, no, io dico che c'è bisogno di costruire dal basso un nuovo centro-destra, quindi bisogna che tutti ci si metta in discussione. La Meloni ha deciso di mettersi in discussione, ha detto partiamo ora col progetto, la prima tappa saranno le europee naturalmente ancora attorno a Fratelli d'Italia con il suo simbolo, i suoi uomini, la sua storia ma allargata a tutti coloro che vorranno e subito dopo le europee dar vita a un movimento che sia lei con la Lega ma sia distinto e naturalmente in grado di far vincere il centro-destra senza più ibridi alleanze. In questo nuovo movimento ci possono stare dentro tutti. Quindi nessuna fusione? Nessuna fusione, bravo, ho capito il senso. Rispetto però al vecchio centro-destra, per ricostruirne uno nuovo, cos'è che non bisogna fare? Beh innanzitutto non bisogna fare più patti del Nazareno, prima cosa che non bisogna fare. Seconda cosa, non bisogna più allearsi con 5 Stelle. Allora noi che non ci siamo mai alleati con 5 Stelle e neanche abbiamo mai fatto il patto del Nazareno siamo i più indicati a tracciare una strada però con estrema umiltà che veda finalmente di nuovo un centro-destra vittorioso. Grazie. 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 Grazie a tutti.